Con l'inaugurazione il 26 aprile al Parco Ciani del Giardino dei Giusti, si è concluso il progetto Lugano Città Aperta che negli ultimi 3-4 mesi ha posto al centro dell'attenzione il tema del giusto. Per giusto si intende una persona che si assume le proprie responsabilità che in determinate situazioni fa prevalere la coscienza perfino oltre la legge se è necessario, oltre la ragione di Stato, oltre altri interessi, privilegia l'interesse generale, l'interesse degli altri uomini e questo in nome della propria coscienza. Quindi questo è un luogo che diventerà, si spera, un luogo di riflessione, di memoria e anche un luogo di formazione con l'obiettivo di aiutarci a prevenire i conflitti e in particolare il loro sfociare nella violenza. Questo fatto è evidentemente più importante anche degli strumenti. La memoria ha un senso se diventerà uno strumento per evitare che quanto accaduto 70 anni fa con la Shoah e che purtroppo si è ripetuto in vari modi, in varie forme, possa non più riprodursi. I convegni e le manifestazioni che hanno composto il programma ci hanno permesso di conoscere i quattro giusti che sono stati designati e ci hanno permesso di individuare alcuni punti fissi. Uno forse più importante degli altri è che questi giusti sono stati tali, hanno tutti la caratteristica che la loro azione non nasce dal nulla, non nasce per caso, ma è il frutto di un'educazione, di un contesto dove tutto questo è stato sviluppato. La famiglia, in senso ampio, rispettivamente la comunità in cui queste persone sono cresciute e sono formate e questo ha permesso loro, quando il momento è venuto, di assumere dei comportamenti che oggi noi celebriamo come comportamenti di giusti. Un secondo elemento importante emerso nei vari convegni è che anche le istituzioni hanno fatto la loro parte. Il progetto ha privilegiato personaggi usciti dalla società civile, venuti fuori dal basso, ma i vari convegni hanno appunto dimostrato che le istituzioni, pensiamo alla Chiesa, al ruolo del Vescovo Ielmini, ma anche il ruolo del Consiglio di Stato che a un certo momento durante la crisi, il massimo della crisi con l'Italia, con l'arrivo dei profughi dall'Italia, all'unanimità lanciò un appello al Consiglio federale in cui dichiarò che loro personalmente e il Ticino avrebbero fatto quello che la coscienza imponeva loro nell'ambito dell'accoglienza, anche a costo di andare contro quelle che potevano essere le direttive federali dettate dalla ragione di Stato, dettate dal problema di proteggere più in generale la Svizzera, ma che potevano confliggere con l'interesse delle facce concrete che si presentavano alla frontiera. Questo appello firmato da tutti i consiglieri di Stato è un fatto sostanzialmente poco noto, ma estremamente interessante che si aggiunge all'azione di queste persone come i coniugi Sommaruga, come Tonalberti, come il pastore Riuar, che partendo dalla società civile fecero prevalere questi interessi. Ecco, l'auspicio è che questo giardino che adesso è lì, presente nel pieno, nel centro della città, sia un'occasione, sia uno spazio, un luogo di formazione che impegni sulle molte crisi con le quali siamo ancora oggi confrontati. Ecco, il giardino non sarà un monumento come tanti altri se sapremo utilizzarlo in questo senso.